E buongiorno! Oggi continua il nostro viaggio della miniserie dei forti austro-ungarici. Oggi siamo in uno dei forti, forse un po' più particolari del nostro viaggio. Cioè quello che gli austro-ungarici chiamavano Werk Valmorbia, ma noi chiamiamo Forte di Pozzacchio. Oggi siamo in uno dei forti austro-ungarici. Grazie. Sono io. Eee. Cioè quello che vuaggio aveva rip viscosity. Grazie a tutti. 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 Come dicevamo, il comando austro-ungarico decise che, dato che le fortificazioni che erano state fatte a Nago e sopra Rovereto erano comunque quasi completate, decise nel 1880 circa, decise che era ora di fare in modo di avere un appoggio di eventuale attacco o eventuale difesa, proprio qui nella vallarsa, perché questa è una valle che va dritta, dritta, dritta verso la pianura veneta. Quindi decisero di fare il forte qui di Pozzacchio, le fortificazioni del Zugna, del Monte Altissimo e sulle valli del Pasubbio. Sfortunatamente la guerra scoppia nel 1915, quindi l'unico forte in proprio stato di avanzamento, quasi completo, diciamo, era proprio qua il forte Pozzacchio. Mentre sulle valli del Pasubbio e sul Pasubbio non vi era stato costruito assolutamente nulla, sullo Zugna, sul Monte Altissimo invece praticamente c'erano solo le opere idriche, la strada di accesso e poche caserme. Quindi lo stato maggiore austriaco si trovò in difficoltà e quindi decise di arretrare in posizioni molto più difendibili e abbandonare il progetto della vallarsa. Gli italiani avevano l'ordine di avanzare, ma come sul forte, cioè sul lago di Garda, era di avanzare con cautela. Gli italiani avevano l'ordine di avanzare, quindi avanzavano di qualche metro, cioè di centinaia, anche qualche chilometro. Poi si dovevano arrestare per costruire posizioni di difesa o di attacco e andare avanti così. Anche qui lo fecero, si fermarono proprio qui al Pozzacchio. Sfortunatamente non erano pronti e nel 1916 ci fu la Straspedition che si infilarono, gli austriaci, proprio qui nella vallarsa, attaccarono il Pozzacchio, lo riconquistarono, attaccarono il Corbin, lo conquistarono, la valle del Pasubio, in un precedente video ve l'ho già raccontato cosa è successo. Siamo all'interno del forte Pozzacchio. Come potete vedere, siamo letteralmente all'interno di una grotta, di una caverna artificiale, scavata dall'esercito austriaco. Questa fortificazione adesso è gestita da un ente, per esempio qui in questa sala e nella sala precedente c'è anche una mostra di fotografie di montagna di un ragazzo qui della zona. Ora noi qui siamo nelle prime postazioni laterali di artiglieria, naturalmente postazioni in caverna. Postazioni che all'inizio della guerra non esistevano, sono postazioni moderne. Infatti qui c'era la slitta per la posizione del cannone che era agganciato molto probabilmente a una piastra metallica che era appoggiata sul calcestuzzo. che comunque dovevi scavare la montagna per poter avere il foro per sparare e comunque indebolivi la montagna. Questa è la vista. Tutto il reparto di artiglieria, tranne come andiamo a vedere qui sopra, le cupole corazzate, facevano parte della montagna, erano inserite nella montagna. Per esempio adesso noi ci troviamo in una delle sale di stoccaggio delle munizioni che sono più all'interno della batteria. Praticamente la fortezza aveva dei cannoni da 75 mm. Adesso non mi vedete, sono in buio, ora ricompaio. Magia! Montati su delle posizioni avanzate, quindi nella parete rocciosa, per esempio come questa qua in fondo. a una galleria. E praticamente queste gallerie erano a taglio spezzato, quindi significa che non erano dritte verso la montagna. Ora muoio. Non erano dritte all'interno della montagna, ma erano ad angolo retto in modo che se il cannone per qualche guasto esplodeva o veniva colpita la postazione o anche solo proprio i fumi e i gas prodotti dal fuoco dell'arma, andassero dritti dentro la fortezza o l'esplosione investiva la fortezza raggiungendo i locali dove erano le munizioni. Per esempio questa è un'altra postazione, qui c'era una metodiatrice. Da quelle parti laggiù c'è la valle che continua. Vi dicevo che c'è un cornetto sopra questa montagna che non è altro che il massiccio del Pasubbio, che si vede o non si vede ma rimane qua sopra dietro. Però noi continuiamo la nostra vista e naturalmente risaliamo le scale perché le facevano sempre dritte. Come vi dicevo, questo è proprio l'aspetto interessante di questa fortezza, cioè la sua modernità. Se non lo dicessero nelle spiegazioni si penserebbe che questa sia una fortezza da Seconda Guerra Mondiale. Questo per esempio era la postazione di un riflettore perché anche di notte si potevano attaccare, si poteva rischiare un attacco soprattutto sulle pendici delle montagne. Quindi si chiamava, si girava il riflettore verso dove si arriva, si accendeva, bastavano mezzo minuto, 30 secondi. Quindi i soldati italiani rimanevano abbagliati perché comunque un fascio enorme di una potenza da illuminare le montagne. Da qui si poteva vedere cosa stava succedendo, magari vedevano che c'erano dei movimenti sospetti. Si chiamava su l'osservatorio. L'osservatorio dava il comando con gli angoli di tiro e cannone sparato. Questa fortezza di ultima generazione ovviamente aveva anche dei sistemi per la comunicazione che potevano consistere suoni e luci tipo anche noi nella Seconda Guerra Mondiale avevamo le fotofoniche. E si mandavano messaggi. Qui c'era un sistema luminoso che era da fortezza, l'M11, alimentato ad acetilene e riusciva a mandare messaggi anche fino a 8 chilometri. Come vi dicevo prima, questa struttura comunque doveva essere munita con tre pupole corazzate che sono qua sopra. Ora seguiamo la scala. Sfortunatamente il forte non fu mai completato e quindi non fu mai dotato delle caratteristiche cupole corazzate delle fortificazioni da montagna. Ci furono tutte le preparazioni infatti fuori lasciarono anche un costone roccioso nel fossato di difesa. Perché vi doveva essere munita di cupole e quindi doveva essere installata una ferrovia per portare queste cupole per la loro installazione. Sono già salito tantissimo. Quindi vi va a capire quanto è spesso la roccia, è spessissima. Questa fortezza se fosse stata completata non ce n'era per nessuno. Il progetto si arriverò estremamente efficace. Signori, questo era il forte pozzacchio. Forse in assoluto uno dei forti della prima guerra mondiale più particolare. Di sicuro all'epoca di quando è stato costruito era il più moderno. Ora noi continuiamo il giro. Però per questo video è tutto. Ci rivediamo alla continuazione della serie in un prossimo video. Naturalmente con mio faccione.